Da Loris Leggiani, qualche secondo fa si riaffiancano, quasi si appoggiano l'uno contro l'altro nella salita verso il Cavatappi Ripassa Casey Stoner di nuovo in staccata Rossi dentro, che duello ragazzi, grazie È stato largo, è giù dal Cavatappi, mamma mia, a momenti si prendono, a momenti si prendono Per potere, per cercare di risuperare subito Casey Stoner, Valentino ha fatto una staccata al limite